Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video un po' speciale. Essendomi un po' stancato di fare video di solo Pokémon, 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 oggi ho deciso di mostrarvi la mia collezione di Final Fantasy, collezione veramente rara. Bene, iniziamo naturalmente dal primo capitolo, Final Fantasy Origins, che contiene Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2, la nascita di un fenomeno. Ma naturalmente erano uscite prima della PlayStation 1, quindi questa è un'edizione fatta apposta solo per la Play 1. Poi abbiamo Final Fantasy Anthology, che contiene i numeri 4 e 5, in quanto il numero 3 non è stato prodotto. Non è stato prodotto per la PlayStation 1, intendo. Questi due giochi già in sé valgono un sacco di soldi, poi dopo sono in condizioni veramente ottime e completi di tutto. Poi Final Fantasy 6, impara dal passato, che contiene la demo di Final Fantasy 10. E anche qui, prima di trovarne una completa che avesse la demo, ci ho messo un sacco. Poi comincia, diciamo, quello più famoso, almeno uno dei più famosi, Final Fantasy 7, in inglese. Oltre 120 minuti di Mind Blowing Cinematic Sequences. Eh sì, all'epoca era una cosa fenomenale. Uno di quelli che mi è piaciuto di più, sicuramente, soprattutto per Sephiroth. Poi abbiamo gli spin-off, Dirge of Cerberus, Final Fantasy 7, naturalmente, di Valentine, Vincent Valentine, qualcosa di sopravvissuto alla distruzione di Midgar. Che è stato un gioco molto sottovalutato, secondo me. Naturalmente non è un gioco di ruolo, ma è più un gioco action. Però a me è piaciuto veramente tanto. Feci bene a prenderlo quando uscì. Poi, per la PSP abbiamo Crisis Core Final Fantasy. Anche questo un ottimo gioco. Con in versione Platinum, quindi cercherò di riacquistarlo in versione normale. Poi, abbiamo questo qui, che è l'ultimo arrivato, che ho comprato. Nintendo DS Final Fantasy 4. E, naturalmente, l'ho comprato senza avere il DS, solo da collezione. Completo di tutto, l'ho comprato a pochissimo, tipo 5 euro costato. Allora ho deciso di prenderlo. Poi, un'edizione solo esclusiva. Questa fu un'esclusiva giapponese, che poi rifecerò anche per l'America. Infatti è Greatest East. Questo non funziona sulla PlayStation italiana. PlayStation italiana. È Final Fantasy Tactics. Qua non è rovinato, ma semplicemente è dentro. Vedete, ha una bustina protettiva che mi si è rotta. In questo buco. In questo punto. E, naturalmente, non ho mai avuto il piacere di giocarci. Ma dicono che sia uno dei migliori. Soprattutto a livello di strategia. Cosa che mi dispiace un po' di non averci potuto giocare. Ma mi sono rifatto assolutamente su Final Fantasy 6. Un capolavoro. Il 7 è stato il primo a cui ho giocato veramente. Quindi mi ha accompagnato durante l'infanzia. Poi c'è stato l'amore infinito per Squall di Final Fantasy 8. Stupendo. Anche Seifer si chiamava lui. Metti a fuoco. Bravo. Mi sembra si chiamasse Seifer. Non sono sicuro. Ma è stato veramente un gioco splendido. Con Diablo come Eone. Era fenomenale. E diciamo che questi due, naturalmente, sono i pezzi forti, secondo me. Del Final Fantasy. Della storia di Final Fantasy. Proseguito da un eccellente Final Fantasy 9. Eccellente, veramente. Anche questo è stato molto apprezzato. Anche dal sottoscritto. Anche se, devo dire, poi dipende dai gusti, per me il 7 e l'8 sono stati migliori. L'unico in grado, secondo me, di superare l'8 è stato Final Fantasy 10. Che avrò completato al 100% direi almeno 4 volte. Ci continuavo a giocare, a rigiocare, a rigiocare, a rigiocare. Veramente stupendo. Ma siamo fermi al 9. E ve lo faccio ammirare in tutto il suo splendore. Tutte le versioni che ho io sono, a parte quelle Platinum, naturalmente, sono in prima edizione, tra virgolette. Cioè, non in versione Platinum. Final Fantasy 10 ho questo schifoso qua, in versione Platinum, ma mi sto già attrezzando per prendere quello non Platinum. Come con il DVD bonus, che è stato... è abbastanza difficile da trovare, ma mi interessa. Con Yuna, va bene, Tidus. E anche qui lo Zolab. Mi è piaciuto un sacco. Qui ero già un po' più grandicello, forse, per quello. Final Fantasy 10-2, che comprai solo per continuare la collezione, all'epoca. Sì e no, sì e no. Cioè, c'è Yuna che diventa una sborona, va cantante, lì con la cosa dei vestiti, non è che mi è piaciuta molto. Però sì, è apprezzabile. Dura molto. Adesso, naturalmente, questi due usciranno in versione rimasterizzata per PlayStation 3. E vediamo cosa aspettarci. Poi dopo, Final Fantasy 12. Final Fantasy 11 non ce l'ho perché è uscito per il PC. Adesso, comunque, se hanno chiuso i server, credo, dell'11, quindi ormai non si trova niente. Prenderò anche quello. Final Fantasy 12. Un gioco che non so quanto dura in sé, ma io sicuramente superai le 150 ore senza finirlo. Perché guardavo ogni dettaglio, ogni cosa. Soprattutto cosa? Grazie alla guida in edizione limitata, che mi era stata regalata. E vabbè, naturalmente la guida è perfetta. Bellissima. La guida di Final Fantasy 12 edizione limitata, ho anche la guida del X. Il X-2 l'ho pregiusto così, non presi la guida. Poi, gli ultimi due. Final Fantasy 13, che a livello grafico fu veramente ottimo, secondo me. Soprattutto nella pianura di Archilte, mi sembra che si chiami, dove ci dà il Behemoth e tutti i mostri, quelli più grossi. Bello, ma a livello di trama... Cioè, è avvincente. Diciamo che all'inizio mi è piaciuta molto la cosa dello stigma al sì, falsi, questa roba qua. Ma diciamo che non mi ha soddisfatto al massimo. Naturalmente non a livelli dei X. Ecco, diciamo che dopo il X, il X-2 già fu un gradino sotto. Il XII si ripresa alquanto col nuovo sistema di combattimento. Apprezzato, molto ha sottoscritto anche la cosa delle taglie, i paesaggi infiniti. Soprattutto il deserto. Il deserto non so quanto sia grande in Final Fantasy XII, ma ha tutte le ambientazioni. Il XIII era un... Cioè, la critica maggiore anche, secondo me, è troppo lineare. E il XII... Cioè, il XIII-2... Cioè, almeno... Io non penso di essere stupido, ma la trama è troppo complicata, troppo... Troppi cavilli temporali, avanti e indietro nel tempo. No, non... no. Da amante dei Final Fantasy vi dico, l'ho finito, l'ho platinato, ma non l'ho apprezzata al mille per mille. Naturalmente di questo ho presi la guida. Non l'apprezzai al mille per mille e soprattutto... Era molto simile al XIII, cioè come grafica ottima, sistema di combattimento bello, innovativo. Però... Ma anche qui la linearità non mi sembra che sia... Non possiamo parlare dei livelli del XII, naturalmente. Parliamoci chiaro. O dei livelli anche del XII. Naturalmente adesso si punta tutto sulla grafica, lasciando il gameplay per quello che è. Io avrei puntato più sul gameplay, diciamo. Poi io... La questione è ancora aperta. Speriamo che in quello finale, che uscirà... Non tra moltissimo, eh. Non so se è il prossimo anno o autunno di quest'anno. Non so bene le date, quindi non mi scrivete. No, uscirà... Cioè, me lo dica uno, lo ringrazio, ma basta. E speriamo che la trilogia si conclusa in maniera degna. Anche se... Dalla versione che hanno mostrato, mi sembra più che sia una Sanse's Creed in versione Final Fantasy. Poi il fatto che ci sia un solo personaggio... Troppo poco, troppo poco. Qui quanti personaggi c'erano? 3, 6... 6, barra 7 almeno. In Final Fantasy X. Comunque nuova moda, basare tutto sulla grafica. Non sono d'accordo, ma vabbè. Poi un gioco che ho apprezzato parecchio è stato Dissidia di Final Fantasy. Per la PlayStation portatile. Questa ho messo la copertina nera così, perché naturalmente c'è Sephiroth, che è fenomenale. E niente, un ottimo gioco. Anche questo l'ho finito. E da poco ho avuto l'occasione di comprarla a pochissimo. Tipo a 12 euro, mi sembra. In edizione limitata da collezione. Con tutte... Gli extra qui, la mini guida, il libretto. Le cartoline e tutto. Allora l'ho presa solo per omaggiare il gioco. Con tutti i personaggi, bellissimi. Possiamo anche vederli un po' così. E niente. Mi manca il Duo Decking. Che non ho preso, perché... All'epoca, quando uscì, la mia PlayStation portatile stava cominciando a... A salutarmi. Cioè stava... Si era ormai rotta. Quindi non la volevo... Non volevo comprare una nuova. Sono riuscito a metterla a posto per poco. Magari adesso potrei anche prenderla. Niente. Questo è un video generale per farvi vedere la mia collezione di Final Fantasy. Spero di riuscire a mettere questa immagine come sfondo. Del video. Naturalmente se volete parlare un po' del gioco, di cosa vi aspettate del nuovo Final Fantasy o in generale di questa saga, sono molto felice di rispondervi. Quindi scrivetemi o nei commenti o nei messaggi privati, come preferite. Spero naturalmente di finirla questa collezione, cioè di aggiungere i pezzi mancanti. E eliminare questi due Platinum che sono veramente orridi da vedere. E beh, il Crisis Core lo trovo Final Fantasy. Sono già in trattativa per prendere quello nuovo. Final Fantasy X. E che dire, io vi ringrazio. Cercherò anche le guide nel tempo, naturalmente senza spendere un'esagerazione. Sono sempre stato amante di questa saga, quindi continuerò fino alla fine. Finché proprio non uscirà un capitolo che mi dirà, no, basta, non meriti i soldi che ho speso. Finora, diciamo, fino a queste serie qui mi hanno convinto, diciamo, l'80-90%. Questi due, sufficienze, gli darei un 6. 6,5 per la grafica, giusto. Ma come trama e come troppo lineare, continuo a dire. Speriamo nell'ultimo, anche se le prospettive non sono delle più rosee. Con questo io vi ringrazio di aver visto il mio video. Vi saluto. E magari anche il prossimo farà un video un po' speciale su una mia altra collezione, un po' così. Vediamo. Grazie a tutti e al prossimo video.